Buonasera amici, siamo arrivati al post partita di Inter Lazio che è appena terminata. Ha vinto la squadra di Conte 3 a 1 con un grandissimo Lukaku che si è confermato probabilmente il miglior centravanti del nostro campionato per efficacia e potenza, forza fisica. Un giocatore che oggi ha spostato gli equilibri. E' finita 3 a 1 con doppietta del belga che ha fornito anche l'assist del 3 a 1 al compagno Lautaro Martinez. Una coppia che funziona alla perfezione in quanto i due hanno, oltre che un evidente feeling, caratteristiche completamente diverse, quindi grande potenza, una tecnica non eccelsa, ma grande efficacia e fisicità per quanto riguarda il belga Lukaku. Mentre Lautaro Martinez, l'argentino Martinez, è un giocatore estremamente agile, rapido, sgusciante. Un giocatore che si integra proprio perfettamente con il suo compagno di reparto. La Lazio, va detto subito, che è piaciuta molto, almeno a me e soprattutto nel secondo tempo, ero convinto che avrebbe anche pareggiato. Sul 2 a 0 hanno trovato la rete con una furba deviazione di Gonzalo Escalante al suo primo gol nel massimo campionato. E a quel punto hanno dato la sensazione di poter andare a prendere il pari. Ma una grande percussione, la radio 1 l'ha definita una percussione feroce di Lukaku, ha messo in condizione, è stato anche altruista, poi il centravanti dell'Inter, in condizione Lautaro Martinez, il Toro Martinez, di andare a segnare un gol importantissimo perché di fatto ha chiuso la partita e ha permesso all'Inter di portarsi a sorpresa, a questo punto, al primo posto della classifica in quanto il turno, che è il ventiduesimo del campionato di Serie A, prometteva vantaggi al Milan che giocava sul campo dello Spezia, mentre l'Inter aveva questo incontro mai facile in casa con una squadra volitiva che segna anche tanto come la Lazio. Sinceramente non è facile per me capire bene cosa è mancato oggi alla Lazio perché non mi ha affatto dispiaciuta. Probabilmente Conte è riuscito a imbrigliare bene la Lazio evitando di attaccarla, di scoprirsi troppo perché la Lazio è molto forte nelle ripartenze, nei contropiedi, sappiamo molto bene noi che siamo della Roma e che abbiamo perso 3-0 con la Lazio, quali sono le sue qualità. È riuscito a ribaltare la prospettiva, ha giocato quasi come se giocassi in campo neutro, non è andato a cercare di chiudere l'avversario nei suoi 18 metri e hanno anche lasciato giocare a un certo punto, poi però sono riusciti con questo rigore a sbloccare la partita, è stato un rigore che ha spaccato proprio in due la partita e da quel momento ha preso un determinato binario. Ma comunque andiamo intanto a leggere quelli che sono stati i risultati della ventiduesima giornata di questo campionato tra anticipi e posticipi vari, come al solito. Bologna Benevento 1-1, Torino Genoa 0-0, Napoli Juventus 1-0, Spezia Milan 2-0, Roma Udinese 3-0, Cagliar-Atalanta 0-1 con un gol proprio al novantesimo di Luis Muriel che era appena entrato e sfortunatissimo il Cagliar di Francesco che credo che a questo punto potrebbe anche essere esonerato. Gli va proprio tutto storto, nell'ultima gara in casa stava prendendo tre punti importantissimi contro il Sassuolo e è arrivato il pareggio addirittura al novantaquattresimo. Oggi stava ottenendo un punto preziosissimo contro una fortissima atalanta e proprio al novantesimo è arrivato il gol di Muriel, un gol tra l'altro dove sicuramente la difesa del Cagliari poteva fare di più sono visti anche tutti i limiti dei difensori rosso-blu. Continuiamo poi con la bella vittoria della Sampdoria di Ranieri Sampdoria-Fiorentina 2-1 Ranieri in conferenza stampa attualmente la Sampdoria anticipo che è decima in classifica gli hanno chiesto ma la Sampdoria può aspirare a una qualificazione eventualmente in Europa League? Ranieri, devo dire, con grande onestante elettuale ha detto ma vi rendete conto di che squadra abbiamo davanti? effettivamente c'è da riflettere perché il campionato effettivamente appare spaccato in due ci sono sette squadre che sono nettamente più forti delle altre poi c'è un gruppone, il famoso gruppone, quello per usare un termine ciclistico e poi ci sono tre o quattro squadre nelle ultime posizioni che veramente in questo momento le vedo proprio male 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 ma poi andremo ad esaminare la classifica nel dettaglio poi c'è stato Crotone-Sassuolo 1-2 sono fitta gravissima per il Crotone ma del resto il Sassuolo è chiaramente una squadra molto più forte del Crotone in questo momento e poi l'Inter-Lazio di cui vi ho relazionato poc'anzi come dicono quelli bravi 3-1 per l'Inter che va in testa alla classifica sono 22 turni domani sera alle ore 20.45 c'è il posticipo del classico posticipo serale del lunedì Verona-Parma diventata una partita ultima spiaggia quasi per il Parma che quest'anno proprio non si capisce che cosa stia succedendo a giallo-blu Ducali perché andremo adesso poi a leggere nel dettaglio la classifica allora guida l'Inter a 50 punti Milan 49 Roma 43 Juve 42 Napoli-Atalanta-Lazio 40 Sassuolo 34 Verona-Sandoria 30 Genua 25 Bologna-Spezia-Udinese 24 a 24 anche il Benevento Fiorentina 22 poi c'è il sorprendente il negativo Torino 17 campionato drammatico per il Torino riesce assolutamente a uscire poi dalla crisi ieri non è riuscito neanche a segnare un gol almeno la squadra che si era un altro segna sempre contro questo Coriaceo Genoa che era un avversario diretto anche per eventualmente alla lunga per la retrocessione anche se nelle ultime domeniche sta facendo molto bene niente il Torino non è riuscito ad andare oltre i risultati ad occhiali 0 a 0 ma se non ti dicono queste partite diventa veramente complicata poi c'è il Cagliari di cui abbiamo parlato prima terzo ultimo con soli 15 punti se pensate che l'Inter che è primo ha 50 punti e il Cagliari ha 35 punti di distanza effettivamente sono dei dati impressionanti in 22 giornate poi c'è il Parma che ha solo 13 punti proprio malissimo il Parma, un disastro e il Crotone chiude con 12 ma il Crotone sinceramente con la squadra che ha mi sembra una squadra che ha già un piede e mezzo in Serie B anche se sta lottando soprattutto tra le mura amiche mentre fuori casa manifesta molto chiaramente la debolezza di questa squadra quindi è un campionato interessantissimo è stata una giornata estremamente favorevole per la Roma perché ce lo dice la matematica la Roma battendo l'Udinese per 3 a 0 ha recuperato 3 punti sul Milan 3 punti sulla Lazio e 3 punti sulla Juventus quindi chiaramente diciamo che delle prime l'unica che ha vinto è stata oltre alla Roma naturalmente l'Inter diciamo che in questo campionato ci sono le prime 7 che possiamo definire 1,2,3,4,5,3 le 7 sorelle sono 7 squadre che sono chiaramente superiori alle altre è ancora molto aperta la lotta anche per lo scudetto che chiaramente Inter, Milan, Juve, Roma, S3 e Juve sono le 4 che in questo momento possono ancora lottare per lo scudetto Napoli-Atalanta-Lazio a 40 sono tre ottime squadre per me io rimango sempre dell'avviso che l'Atalanta per me è la squadra che gioca meglio più vedo giocare le altre squadre più mi rendo conto che l'Atalanta è la squadra che gioca veramente bene poi c'è tutta una serie di squadre che tutto sommato sono molto molto simili anche come rendimento infatti sono tutte in pochi punti mentre sembra però molto complicata come dicevo la situazione delle ultime 4 che sono molto staccate ma soprattutto Torino, Cagliari, Parma e Crotone danno veramente a volte la sensazione di avere proprio qualcosa in meno anche a livello di guida tecnica a livello mentale perché per esempio il Napoli ieri ha battuto la Juventus giocando anche male tutto sommato o comunque non fornendo una prestazione particolarmente entusiasmante però il Napoli c'è stava con la testa ieri con l'applicazione, con l'intensità lo zano un po' il simbolo di questo modo di giocare del Napoli un giocatore che è molto concentrato ci sta molto, ci tiene molto su ogni pallone, lotta magari non è Maradona, non è un campione però è un giocatore che poi in campo si sente il Napoli in questo momento sta giocando così è riuscito ieri anche con un po' di fortuna nonostante tanti infortuni che ha tanti infortunati con le grandi parate del suo portiere Meretta che ha sostituito Spina proprio nel riscaldamento perché il portiere Spina si è infortunato anche lui nel riscaldamento quindi il Napoli è scelto in campo condizione a dir poco meno mate ma il bello del calcio è questo e quello che mi piace di questo campionato è che è molto equilibrato anche squadre che sembrano molto forti poi perdono, anche la Juve ha perso tante partite quindi questo è molto interessante perché manterrà vivo l'interesse fino alla fine manterrà vivo l'interesse fino alla fine non è neanche da escludere che possa maturare qualche grossa sorpresa perché è chiaro che fino a ieri fino a una settimana fa due settimane fa il Milan sembrava veramente lanciato oggi risalgono le quotazioni dell'Inter ma io vedo che la Roma adesso c'è Benevento-Roma e Roma-Milan se la Roma mi vince a Benevento cosa probabile poi riesce nell'impresa di battere il Milan in casa io dico che anche la Roma entra di diritto nelle squadre che lottano e lotteranno con lo scudetto perché l'Inter-Milan e la Juve sono squadre che hanno spesso delle battute d'arresto quest'anno mi sembrano assolutamente imbattibili l'Inter ancora una volta oggi ha dimostrato di essere Lukaku dipendente quando c'è Lukaku che magari è anche in forma questa sera è tutta un'altra squadra perché è un punto di riferimento che apre spazi tra l'altro dimenticavo di dire che mi è piaciuta molto oggi la prestazione del marocchino Achimi nell'Inter un giocatore che dà molta sostanza a quella fascia che ho l'impressione che da quando è entrato Achimi l'Inter stia giocando anche meglio quindi la Roma dicevo ha dei giocatori li abbiamo visti anche oggi all'opera che hanno molta qualità cioè Mkhitaryan Petro ma lo stesso Veretout Dzeko quando in condizioni di giocare quando è allenato non adesso certamente che gioca a scampo di partita è stato fermo non è sicuramente in un momento di buona forma però ha veramente dei giocatori che dal punto di vista tecnico quando mettono la quarta la quarta marcia in forza delle comunque loro qualità tecniche sinceramente mi impressionano è un peccato che in alcuni ruoli sia un po' scoperta questa squadra in difesa a centrocampo perché forse anche in porta perché è una squadra che oggi è ritornata al terzo posto quindi dopo 22 turni non stai al terzo posto per caso probabilmente dobbiamo rivalutare anche l'operato di Paolo Fonseca alla luce di questo risultato quindi per stasera è tutto vi invito a iscrivervi al mio canale per continuare a seguirmi e ricordatevi chi non si iscrive al canale diventa laziale grazie a tutti